Ah, ma quindi Sosso, per caso sei fatto di carne? Ma no! E di plastica? Ma no! Forse di erba? Ma no! Di aria? Ma no! Allora di acqua? Neanche! Di farina? Ma che te vi dici? Non so, è fatto solo di sasso. Ah, io pensavo che dentro di te ci fossero dei buchi, dell'arga, delle piccole gallerie, come in un formicario. Cos'è? Invece, se hai fatto tutto di sasso, non hai un dentro e un fuori.